Andiamo a presentare il nostro main sponsor, MPM, assoluto leader nel settore degli infissi e in tutto ciò che rende la vostra casa più confortevole e costruita intorno alle vostre esigenze. MPM infatti ha come obiettivo quello di poter offrire al cliente attraverso un insieme di servizi e di assistenza post vendita un prodotto unico nel suo genere. Visitando il loro showroom troverete tutto ciò di cui ha bisogno la vostra casa per essere un'isola felice e lontano da tutto ciò che può disturbare la vostra quiete. MPM può realizzare per voi ambienti e servizi gestibili da smartphone grazie alle avanzate tecnologie mettendo anche in sicurezza la vostra casa grazie ad antifurti wifi e installabili con tre semplici manovre e ad inferriate antieffrazione insomma tutto per proteggere l'intimità della vostra casa. Ed MPM a tutti coloro che sostituiranno le finestre di tutto l'appartamento ha deciso di regalare questo splendido antifurto wifi dal valore pensare di 399 euro che comprende una telecamera HD. Sirena da 90 decibel e un sensore per la porta blindata tutto facilmente gestibile dal vostro smartphone. Ovviamente l'antifurto è espandibile per soddisfare tutte le vostre esigenze. Inoltre avrete uno sconto del 40 per cento sul totale della spesa. Cosa aspettate? Approfittate dell'offerta che è valida fino alla fine di gennaio. Non restare alla finestra. Anche tu scegli MPM per un risparmio di qualità.